buongiorno presidente benvenuto ad ability channel siamo qui a padova in occasione dei campionati italiani assoluti di atletica leggera ma prima di parlare di questa manifestazione raccontiamo un po chi è lei da dove viene qual è la sua storia una storia lunga una storia lunga che dura da ormai 30 anni dove appunto io ho conosciuto lo sport paralimpico grazie a una cara amicizia che che mi ha permesso di potermi avvicinare a questo mondo abbiamo iniziato con lui in sardegna un percorso di avviamento allo sport per le persone con disabilità che poi pian piano è sfociata in un'attività di carattere nazionale ed internazionale che mi ha portato anche a vivere personalmente d'atleta ben due paralimpiadi seul e barcellona e le dopo questa queste due bellissime esperienze abbiamo pensato di dare un contributo maggiore a tutto il movimento impegnandoci anche nell'ambito come dire politico sportivo per dare un aiuto più incisivo su quello che possono le politiche appunto di carattere federale non solo nazionale ma anche internazionale e poi con l'esperienza all'interno della loro federazione italiana sport disabili con l'evento del comitato italiano paralimpico abbiamo costruito questa meravigliosa realtà che finalmente sboccia con le federazioni paralimpiche in parte ancora autonome all'interno di un unico sport paralimpico ma altre che credo che sia il risultato anche sotto il profilo sociale più importante vederle integrate nelle federazioni olimpiche credo che sia il come dire il traguardo che insieme col nostro grande presidente l'avvocato pancalli siamo riusciti a raggiungere in questi anni ma allora facciamo questo passo indietro come si avvicina allo sport sandrino por ma è stata una cosa come dire del tutto casuale nel senso che praticamente io al suo tempo rientravo da un'esperienza e le come tanti ragazzi allora della mia età che quindi facevano delle esperienze prevalentemente all'interno di istituti di riabilitazione il grosso problema è che quando si andava un po fuori da questo giro qua il poter fare dell'attività motoria diventava sempre più difficile ma poi soprattutto fare un'attività motoria stimolante quindi di certo non si poteva insomma riversare semplicemente dall'attività prettamente sanitaria e quindi lo sport è stato sicuramente quel quell'aspetto che ha permesso di avere gli stimoli giusti per continuare a praticare dell'attività motoria che poi alla fine è sfociata in un'attività sportiva vera e propria quindi anche di carattere agonistico per poter poi raggiungere quei traguardi che ci siamo detti poc'anzi. Tutte queste esperienze sono esperienze importanti per poter gestire una federazione che poi tra l'altro raggruppa tante attività e discipline differenti? Direi assolutamente sì, credo che sia il compito fondamentale da parte di un presidente federale lo stare il più vicino possibile a quella che è la base e quindi in questo caso soprattutto l'atleta e chi più di chi ha fatto l'atleta può capire questo quindi io credo che l'esperienza d'atleta sia un'esperienza determinante ma soprattutto deve essere negli anni continuata in un percorso di condivisione al di là di quelli che sono i bordi pista però essere sempre presenti capire quelle che sono le difficoltà, gli ostacoli e poi perché no insomma godere insieme di quelli che sono i risultati sportivi che andiamo a conquistare collaborando tutti insieme. Vogliamo spiegare esattamente cos'è la FISPES e quale discipline raggruppa sotto di sé anche perché molta gente probabilmente non lo sa? Assolutamente, la FISPES è la Federazione Italiana Sport Paralimpice Sperimentali che di per sé come disciplina principe ha sicuramente al proprio interno l'atletica leggera ma che praticamente viene affiancata da tutta una serie di discipline anche se paralimpiche come il tirassegno, la scherma, le bocce ed altre attività che iniziano ad affacciarsi su quelle che sono le opportunità nei confronti degli atleti con disabilità di praticare dello sport. Da poco stiamo avviando l'esperienza del rugby in carrozzina che in Italia mancava e quindi stiamo lavorando sotto questo aspetto per dare una nuova opportunità soprattutto agli atleti con disabilità gravi anche perché il rugby viene prevalentemente indirizzato ad atleti con tetraplegia e quindi pian piano cerchiamo sempre di aprire di più quelle che sono le opportunità ed ecco qui la denominazione di federazione degli sport sperimentali. L'atletica leggera è la disciplina reggina di qualsiasi olimpiade e quindi anche paralimpiade quindi probabilmente è anche la disciplina più importante per la FISPES. Vogliamo fare un minimo di bilancio di questo primo anno di attività proprio nell'atletica? Direi che il bilancio è sicuramente un bilancio positivo soprattutto dettato anche dal fatto che quelli che sono stati gli anni addietro sono stati un po' degli anni di ricostruzione rispetto a determinate situazioni che si sono create sia di contesto sociale ma anche dettate da determinate scelte politiche fatte precedentemente dove ci siamo trovati con un'età media degli atleti praticanti che ormai andava a superare i 40 anni. Quindi abbiamo dovuto fare una grossa attività di promozione verso i giovani. Oggi abbiamo una percentuale di circa il 60% di ragazzi che stanno sotto la soglia dei 30 anni quindi molti anche sotto i 20 anni. Quindi questo ci permette di poter fare una programmazione a medio e lungo termine importante in termini di risultati. Tutto questo lavoro l'abbiamo imbastito soprattutto per avere delle proiezioni interessanti per le Paralimpiadi di Rio però devo dire la verità che il lavoro che abbiamo profuso già per quella che sarà la prossima Paralimpiadi di Londra appunto 2012 ci permette di ben sperare con alcuni atleti emergenti che hanno lavorato molto bene in questi anni e che quindi sicuramente ci daranno anche delle buone soddisfazioni. Vogliamo fare dei nomi se è una cosa lecita, se non offendiamo nessuno perché magari qualche nome ce lo possiamo dimenticare? Ma assolutamente sì, è che molte volte la scaramanzia poi alla fine è meglio tenerla alleata però sicuramente le persone del calibro della Stefanini, persone del calibro anche della stessa Porcellato che credo che ancora qualcosa possa dire nonostante abbia una lunga carriera alle spalle e le altre atleti che si stanno affacciando come la Giussi Versace. Un'ultima scoperta è sicuramente quella dell'Analisa Minetti che si è avvicinata da poco al nostro movimento e che già sta facendo registrare degli interessanti risultati che noi non diciamo nulla però sicuramente in cuor nostro nutriamo sicuramente delle speranze vive affinché anche lei possa vivere un'esperienza così bella come quella della Paralimpiade. Quindi insomma lavoriamo nel silenzio, nella serenità e cerchiamo di fare bene il nostro lavoro e credo che poi tutto questo ci porterà a raccogliere dei buoni frutti. Come si fa a trovare giovani atleti e a convincerli a venire in pista? Beh questa è una domanda che direi è molto difficile anche perché soprattutto in quel che riguarda la disabilità fisica e sensoriale oggi viva Dio abbiamo la società che abbiamo attorno e ci permette di creare o meglio di identificare lo sport come un'opportunità e non più come quel qualcosa che magari tanti anni fa o che oggi vive ad esempio la disabilità intellettiva relazionale spesso diventava l'unica opportunità per poter uscire fuori di casa. Oggi insomma lo sport è un'alternativa quindi anche la persona con disabilità oggi decide di fare sport e il fatto di avere un'opportunità in più e quindi anche di decidere di non fare dello sport chiaramente questo crea più difficoltoso un approccio nei confronti delle persone con disabilità per potersi avvicinare appunto alla pratica sportiva. Però sicuramente quelli che sono i campi più fertili sono ovviamente quello che è il mondo della scuola il mondo dei centri di riabilitazione, delle unità spinali eccetera ma poi soprattutto credo che fondamentalmente sia necessario cercare di dare un approccio ad un percorso di salto culturale all'interno della società rendendo sempre più dignitosa quella che è la pratica sportiva affinché venga identificata e riconosciuta in maniera paritetica a livello di dignità tra quella olimpica e paralimpica in modo tale che oggettivamente una persona con disabilità si senta parte totalmente integrante dello sport per tutti e che quindi a pieni voti ci si sente rappresentante di una nazione non sicuramente di una fascia sociale per la quale in qualche modo ci si vede un po' atleti di serie B questo non lo siamo, penso che lo abbiamo dimostrato ormai da tanto tempo e credo che possiamo dare veramente delle soddisfazioni per quello che è il forgiare dei risultati a favore di una nazione come l'Italia che quindi si può sicuramente vantare di avere questo valore aggiunto importante Una domanda di carattere tecnico, anzi tecnologico quanto sono importanti gli sviluppi della tecnologia in questo sport? Assolutamente molto, soprattutto per quel che riguarda quegli sport che ovviamente devono avere a supporto dei mezzi tecnologici partendo anche dalle semplici carrozzine e quindi chiaramente una carrozzina da corsa deve avere tutti quelli che sono i dettami attinenti all'ambito dell'aerodinamicità, della scorrevolezza di tutti quelli che sono degli studi fatti ad hoc affinché possa essere lo strumento più valido per una prestazione atletica e chiaramente sotto questo profilo ci si gioca molto noi in Italia, devo dire la verità, siamo abbastanza penalizzati anche perché non abbiamo un istituto di ricerca che investe e lavora sotto il profilo di queste tecnologie qua però ovviamente sotto il profilo tecnico noi dobbiamo lavorare parecchio quindi cercare di avviare quelle che sono le sinergie anche con la scuola del CONI, la scuola di ciclismo e di tutto ciò che abbiamo attorno come ad esempio per le Paralimpiadi Invernali abbiamo fatto una scocca per il monosci insieme con la Ferrari quindi questo ci ha permesso non solo di andare avanti con la tecnologia ma anche di ben figurare poi come abbiamo visto anche nelle Paralimpiadi Invernali di Torino dove di certo non siamo stati una nazione di serie B quindi la tecnologia è sicuramente importante A quali persone disabili la FISPES si rivolge? La FISPES si rivolge a tutte quelle disabilità di carattere fisico e di carattere sensoriale intendendo sensoriale le persone che hanno delle disabilità a livello visivo perché per quel che riguarda l'ambito dei sordi c'è una federazione ad hoc che segue proprio l'ambito dello sport dei sordi Qual è stato il successo più importante che lei ha raggiunto? Come atleta ho raggiunto una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Seoul che poi per fatalità mi è stata portata via a seguito di un ricorso banalissimo che è stato fatto dagli americani e quindi sicuramente come valore tecnico è sicuramente una medaglia che ho nel cuore che ho sicuramente strameritato anche se poi in quelli che sono gli annuari risulta che sono stato al sesto gradino al mondo in quell'occasione A Londra i nostri atleti saranno più bravi di lei? Ma io me lo auguro anche perché poi sarebbe veramente assurdo il contrario uno cerca di far bene perché gli altri facciano meglio credo che questo sia l'obiettivo primario che ci dobbiamo porre ma in un'ottica anche di carattere generale quindi sono sicuro che questo accadrà e non potrò che essere felice a festeggiare con loro Presidente grazie per essere stato con noi per queste belle parole che ci ha raccontato Grazie a voi per tutto